Il metodo semplice per conoscere donne bellissime. I cinque semplici step per diventare un campione con le donne anche se parti da zero. Un semplice trucco per attirare le donne più belle anche se oggi sei ancora vergine. Prima di cominciare ti ricordo una cosa importante. Se ti interessa la seduzione ho anche un canale Telegram chiamato Gio di Lorenzo dove condivido informazioni che su questa piattaforma dove mi vedi ora non posso darti. Quindi vieni a trovarmi anche lì, trovi il link in descrizione. Sai perché online vedi continuamente titoli di questo tipo? E perché in realtà fanno una marea di visualizzazioni? Anche se in realtà sono più vuoti della scatola che ti rifilerebbe un napoletano che ti vuol vendere un iPhone in mezzo alla strada? Perché titoli di questo tipo fanno appello a quella che è la pigrizia delle masse. Alla pigrizia delle persone che sono dei perdenti nati e che non otterranno mai risultati nella vita e che intimamente neanche li vogliono ottenere se questi non cadono dal cielo. Quindi la vuoi sapere la pura verità? Bene, ora te la dice Gio di Lorenzo. Se tu non sei disposto a entrare in azione lascia perdere i video dei teorici opinionisti della fica, youtubers italiani perché tanto la pura verità è che puoi passare immediatamente a YouPorn perché sei destinato a fallire. E se tu non sei in grado o non vuoi farti il culo per entrare in azione lascia che ti dica la pura verità. Lascia perdere questa gentaglia che trovi in giro che sta solo cercando di fare circonvenzione di incapace e tieniti i tuoi pochi soldi in tasca. Questa roba la seduzione non fa per te. Ma non ti preoccupare se tu vuoi continuare a vedere i video con i 5 segreti per attrarre donne bellissime anche se tu non vuoi fare nulla e senza fatica ci sono ancora un sacco di cose nella vita per te. Le seghe, il fallimento, tutta roba su questa falsariga. Quello che puoi fare invece è iniziare a farti il culo sul campo vedere anche dei piccoli risultati iniziali e diventare un drogato di questi risultati fino a farli diventare pian piano, pian piano, sempre più grandi. Oppure, anziché ottenere risultati puoi diventare semplicemente come uno di questi galitici della formazione, dello sviluppo personale che girano di corso in corso sempre come i metodi drogati ma la loro vita non cambia mai di una virgola e sono più fighi degli altri semplicemente perché il guru gli dice che ci devono credere il guru ma poi di questa presupposta figoseria mai se ne trova traccia nel mondo reale. Stop! Non scappare subito! Primo, ricordati di iscriverti al canale Secondo, vuoi vedere delle tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Quindi clicca il link a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.